Due anni fa, un virus, invisibile, per di più parassita, ci ha messi tutti a terra. Nonostante i progressi della scienza, è stato difficile individuarlo e combatterlo. La pandemia ci ha dato una durissima lezione, sia alle persone che alle istituzioni. Un denominatore comune. Siamo tutti fragili, le persone, gli anziani, i bambini. Manca le istituzioni, i governi, la sanità, la stessa scienza. Quale lezione trarli allora dalla pandemia? Che la fragilità non deve essere una condanna. Può avere una sua forza, quella di farci unire, quella di prenderci cura gli uni degli altri. Da solo non si salva nessuno. Per questo ho scritto questo libro, La forza della fragilità. Perché se noi invertiamo la tendenza dall'individualismo al noi, noi ne usciremo ancora meglio. Per questo il futuro, dopo la pandemia, è una nuova fraternità, una nuova forza, quella che nasce dalla fragilità. Grazie. 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 Grazie a tutti.